Mi presento intanto, se scorre la slide, ok. Io sono Guido Frascatore, sono un imprenditore, lavoro da più o meno una decina d'anni nel campo della user experience e design in generale, collegato molto al mondo dell'engineering, quindi dello sviluppo. Sono CEO e fondatore di BeMind, un'azienda che lavora sullo sviluppo di prodotti digitali, quindi noi cerchiamo quelli che sono i buchi del mercato per andare a creare dei prodotti che poi vanno a colmarli. Lavoriamo sia su prodotti nostri, sia in partnership con aziende partner. Sono uno dei fondatori di Aip, non so quanti conoscono Aip qui dentro. Ok, bene, quindi è abbastanza conosciuto. E come BeMind, seguiamo anche su Aip tutta quanta la parte che riguarda la user experience, lo sviluppo front-end e anche la parte di comunicazione social. Diciamo che ormai sta ricevendo un discreto successo perché siamo a più di 700.000 clienti, quindi è un prodotto importante. Per chi non lo conoscesse, è un prodotto che lavora, diciamo, in questo limbo che è quello delle banche innovative, quindi Challenger Banking. Come BeMind abbiamo creato questo nuovo prodotto che si chiama Vidra, che è un prodotto che si pone come il modo più semplice per vendere online. Quindi un sistema che permette, diciamo, agli esercenti di adattarsi al cambiamento che sta subendo il mondo del retail e della vendita in generale. Come sappiamo, con l'avvento dell'online e dei colossi come Amazon, diventa sempre più difficile vendere su questi canali moderni. E quindi quello che vogliamo fare noi è creare questo sistema che permetta di servire il cliente, comunque esso sia, e in modo molto semplice. Come lo facciamo con una piattaforma, diciamo, only in one di commercio digitale, che permetta di gestire tutto quanto il flusso che va dal commercio online al punto vendita fisico, permettendo al merchant di concentrarsi soltanto su quello che è il core del suo business, quindi sul prodotto, sui clienti. Questo lo facciamo tramite un sistema che va a razionalizzare tutta quella che era la vecchia value chain, quindi adesso se uno vuole vendere online deve avere un sistema per vendere sui marketplace, il payment gateway per i pagamenti, il collegamento con la banca, il sistema per creare il webshop, per vendere in modo conversational, per gestire i corrieri. Quello che facciamo noi è appiattire tutta questa value chain, crearla e metterla in un solo prodotto che è Vidra, e che permette di gestire tutto quanto. Tramite un sistema che integra sia la parte di pagamento, tutta la parte di creazione del webshop, quindi la scelta dei temi. Integriamo anche tutta la parte di spedizione, andando a fare brokering sui corrieri, quindi noi integriamo, facciamo noi i contratti e li rivendiamo ai nostri clienti in modo conveniente, facendoli risparmiare fino al 70%. Andiamo a integrare tutto quello che è la parte di vendita sui marketplace per avere un'esperienza frictionless di tutta la vendita online. Questo è giusto per farvi un po' l'idea di quello che facciamo e quali sono i nostri campi di lavoro. Il focus di oggi sarà principalmente sul design. Noi avendo un background abbastanza sostanzioso a livello di user experience di design, parleremo di come il design può influire sulla vendita in un e-commerce. Allora, non so quanti di voi conoscono questo funnel, il funnel dei pirati. Mai sentito nominare? Allora, il funnel che si sta diffondendo ultimamente con questo trend del grow hacking. Il funnel dei pirati in pratica è molto semplice, parte da quello che è l'acquisition, quindi portare i clienti o a vedere un nostro, nostra campagna, arrivare sul nostro sito. Comunque far conoscere il nostro prodotto e i nostri clienti. L'activation è fargli fare qualche azione, quindi attivarlo in qualche modo, magari farlo registrare nella nostra newsletter, magari fargli cliccare su un prodotto, farglielo visualizzare. La retention è far tornare quel cliente sul nostro sito, magari perché l'abbiamo colpito, abbiamo reso qualcosa di interessante. Revenue, quando paga, quindi quando iniziamo a guadagnare. E referral, quando parla di noi ai suoi amici. Quindi questo funnel ovviamente va dalla parte più ampia, quella dell'acquisition, fino a chi poi sono quelli che veramente amano il nostro prodotto, che lo vanno a comunicare in giro, quindi vanno a proporlo ai loro amici. Quello di cui parleremo è come questi quattro principi che abbiamo identificato vanno a influire su questo funnel. Questi blocchi blu sono degli elementi che sicuramente conoscete, cioè il brand, che è come i nostri clienti ci identificano. Il visual è come il brand viene declinato sulla parte visiva e quindi come viene strutturata anche la pagina. La componente trust, che quindi è quanto i nostri clienti ci credono di fiducia, quanto ispiriamo fiducia ai nostri clienti. E la parte di experience, quindi quanto soddisfiamo i nostri clienti nella gestione, nel tutto il flusso di vendita. Ok, ma che vuol dire questa roba? Allora, partiamo dal brand. Quindi, brand consistency. Una cosa molto importante, quando lavoriamo il nostro prodotto, che potrebbe essere un e-commerce, potrebbe essere un'applicazione, potrebbe essere qualsiasi cosa, è che la nostra brand strategy sia solida, che sia costruita attorno a un'idea centrale, attorno alla quale tutto quanto ruota. Tutte quante le azioni, tutte quante le comunicazioni devono essere, diciamo, devono nascere da un nucleo unico. Come vedete in questa immagine. Quindi abbiamo il brand, che è il core, intorno a cui ruota tutto quanto, quindi la brand strategy, la design strategy, quindi come visivamente lo applichiamo, il tono di voce unico. E questa cosa qui, non dobbiamo vederla soltanto magari sul sito o sulla comunicazione, ma viene applicata dappertutto, nel customer service, nelle risorse umane, in come scriviamo i nostri contratti. Questa cosa qui, ovviamente, si declina in una struttura abbastanza solida. Quindi, noi partiamo da fare ricerca, nel senso, noi dobbiamo capire come ci vogliamo posizionare sul mercato. Dobbiamo chiarirlo a noi stessi, quindi scrivere le linee guida di come vogliamo che i nostri clienti ci percepiscano, quindi valori, personalità del brand, per poi arrivare a quella che è l'identità visiva. Quindi noi decidiamo che vogliamo essere un brand di un certo tipo, quindi adesso andremo a vedere degli esempi, per poi andarlo a declinare visivamente. Questa declinazione, ovviamente, deve essere fatta poi su tutti quanti i touch point. Ad esempio, come brand, noi possiamo essere di diversi tipi, nel senso, se decidiamo di essere un brand autentico, o vicino alla natura, ovviamente tutta quanta la comunicazione deve andare in quella direzione. Una volta un cliente mi ha chiesto dei feedback riguardo il suo prodotto, lui voleva, non dirò il nome, però lui voleva comunicare comfort, natura, però aveva il logo che era tutto quanto bold, nero e spigoloso. Le fotografie che erano molto streetwear, molto underground, e quindi queste cose cozzavano, non erano legate dallo stesso valore, dai stessi valori, e non erano comunicate nello stesso modo da tutte le parti. Invece adesso vedremo un esempio, che è quello di Velasca, che invece comunica il brand in tutti quanti i settori in modo unico. Per esempio lui dice, Siamo fatti per chi non vuole seguire le mode ogni sei mesi, ma ricerca uno stile senza tempo e dà valore alla tradizione, capace di creare a mano scarpe. Questo qui lo vediamo dappertutto, nella loro comunicazione, vediamo illustrazioni hand-made, quindi disegnate a mano, che richiamano uno stile molto artigianale, anche nella composizione. Nella parte di canali social, per esempio nella parte di Instagram, vediamo sia le fotografie, sia anche soltanto le iconcine, sono tutte fatte a mano, quindi i touch point sono tutti quanti eseguiti allo stesso modo. Allo stesso modo il blog. Il blog, anche a livello di argomenti trattati, vanno a trattare quegli argomenti che si identificano con il loro tipo di target, quindi qualcosa che va sullo storico, che va sul classico, e anche la struttura grafica è abbastanza artigianale. Ovviamente questo qua ricade anche in tutto quanto riguarda l'offline, quindi lo store fisico e l'esperienza touch, diciamo, del prodotto, quando il prodotto arriva a casa. E diciamo questa qua era la parte che riguardava il brand, ho fatto un esempio per rendere un po' più comprensibile. Ovviamente il brand si traduce poi in tutta quella che è l'esperienza sul sito, e quindi in tutto quanto quello che è il visual appeal, come noi mostriamo ai nostri clienti il nostro prodotto. Da una ricerca è stato dimostrato che noi abbiamo soltanto 50 millisecondi per fare una buona impressione sul nostro cliente. Ovviamente come immaginate è pochissimo. Ovviamente le fotografie sono uno di quei parametri importanti che ci permettono di fare una buona impressione e di comunicare al massimo al nostro cliente. Sono, diciamo, la nostra promessa, il nostro ambassadore verso il cliente. Ovviamente chi va sul nostro e-commerce non può provare, non può assaggiare il nostro prodotto. Quindi dobbiamo far sì che la fotografia esprima al massimo quello che è il nostro brand e quello che è il nostro prodotto. Un esempio molto bello, secondo me, è questo qui di Zalando, che oltre a mettere delle belle foto a sfondo chiaro che risaltano l'immagine, mette in mostra l'altezza del modello. Ovviamente quando un cliente va a comprare un prodotto sul loro e-commerce tu immagini che possa essere la quarantatura, la taglia che ti sta bene, però ovviamente non sai se poi sarà effettivamente quella giusta. Guardando invece come sta addosso a un modello, magari della tua altezza o di un'altezza paragonabile, te puoi capire meglio se quel vestito ti sarà allo stesso modo. Altri esempi possono essere questi qui. Nixxon ha un ottimo mix di lifestyle e anche di idee su come utilizzare i loro prodotti. Un altro esempio molto interessante è quello di Sweet Supply. Pensate che addirittura Sweet Supply è talmente tanto interessante per chi ama questo tipo di stile, che viene utilizzato non soltanto per comprare, ma anche soltanto per andare a vedere gli outfit, quindi per capire come usare i vestiti comprati o su quel sito o su altri. E ovviamente anche il resto delle immagini hanno uno stile molto appariscente, che colpisce molto e che quindi sfrutta quei 50 millisecondi. Allora, questo qua è un video di Remenegido Zegna che mostra come utilizzare i loro prodotti. Questo qui, per esempio, è un vestito non stiro, quindi comunque un vestito abbastanza innovativo rispetto a quelli tradizionali, che però, ovviamente, vedendolo soltanto nella foto, non può arrendere l'idea di come può essere utilizzato, di come può essere sfruttato. Ovviamente, introducendo all'interno del sito, quindi a livello visual, dei video dimostrativi, possiamo far capire al cliente come utilizzare quel tipo di prodotto. In questo caso, sappiamo che può essere ripiegato, messo dentro una scatola, messo in valigia e portato senza problemi. Altri esempi che possiamo sfruttare per ingaggiare di più il nostro utente, quindi interagire di più con lui, è creare delle istruzioni e quindi delle review sui nostri prodotti. Questo qui è sempre Velasca che spiega come pulire le scarpe. Ovviamente è un problema annoso quello della politica delle scarpe, soprattutto quelle classiche, sono un po' tutti quanti, non si sa mai bene come fare. E loro mettono delle descrizioni sempre presenti all'interno del sito per rendere questo qua facilmente accessibile. Adesso andiamo al terzo elemento per sviluppare un sito che permetta di vendere in modo più efficiente, che è la parte di trust. Allora, come sappiamo, quando una persona va sul nostro sito, è importante che il nostro sito sia ispiri fiducia e che ci sia sicurezza, ispiri sicurezza su quello che si fa. Le ragioni principali dell'abbandono dei checkout di un cliente, infatti, a metà, quindi al 19% addirittura, è quando il cliente non si fida di andare a inserire i dati della carta all'interno del nostro sito. E questo qua fa pensare molto, insomma. E questo qua lo dice, è una ricerca di Baymard di poco tempo fa, è abbastanza nuova. Come potete vedere, gli altri esempi li passeremo tra poco in rassegna, comunque partiremo da questo qui della fiducia del sito sulla carta. Sappiamo, sempre la stessa ricerca di Baymard, dice che anche soltanto aggiungendo un badge, quindi che certifica quel sito con alcuni di questi, diciamo, istituti, aumenta tantissimo la possibilità di conversione e la sicurezza del cliente. Tra questi qua, ovviamente, vediamo che quello del 35,6% è quello del Norton Secure. Altri esempi. Quando vendiamo online, spesso il cliente magari, uno, non si fida a mettere i propri dati all'interno del nostro sistema, due, magari vorrebbe vendere, vorrebbe acquistare utilizzando il proprio sistema di pagamento. Non so se sapete che in Italia, ok, le carte di credito sono quelle che vanno per la maggiore, però appena si esce un po' fuori, quindi se io vado a vendere in Germania, per esempio, più del 30% delle transazioni vengono chiuse con un sistema di pagamento che si chiama tipo Sofort. Oppure se vado in Olanda, è una percentuale analoga, quindi 30-40%, vengono fatte con i deal. Se vado oltre, ancora più lontano, e quindi vado in Asia, in Cina si utilizza quasi soltanto WeChat o Alipay. Per non parlare, per esempio, della Russia, dove si utilizza un sistema di pagamento si chiama Kiwi, in cui io faccio l'acquisto online, per pagare vado in dei chioschi a bordo strada dove vado a mettere i soldi, più o meno, quindi delle cose strampalate, che però funzionano in diverse parti del mondo. Quindi, quello che è importante è cercare di offrire le diverse modalità di pagamento con cui il cliente vuole pagare, quindi cercare di rendere disponibile affinché si riesca a chiudere l'esperienza d'acquisto e quindi aumentare la conversione. Parlando sempre di fiducia verso il cliente, quello che sappiamo è che il 72% delle persone che concludono un acquisto considerano molto importante conoscere il corriere nel momento dell'acquisto. Si tratta di un'informazione rassicurante perché spesso ho visto proprio questi giorni un paio di screenshot di alcuni amici che andavano da un corriere nella sede per ritirare un pacco perché non gli hanno consegnato per qualche motivo. Ovviamente questa esperienza negativa si traduce poi nel non scegliere quel corriere e nella possibilità magari di andarlo a scegliere. In un'altra ricerca quando è stato chiesto ti è mai stata la possibilità di scegliere un corriere nell'80% di casi era no e quando gli è stato chiesto ti sarebbe possibile ti piacerebbe scegliere un corriere la maggior parte delle persone ha detto di sì insomma perché ovviamente come vediamo la differenza di corrieri è talmente ampia e il servizio che viene reso è talmente differente che questa opzione diventa veramente importante. Altri esempi l'account verificato sui social questo qua crea trust sicurezza nei confronti del cliente fin dal primo touch point quindi appena io entro in contatto con il cliente vedo che il suo profilo è verificato capisco che è sicuro e ovviamente tutto quanto riguarda le informazioni di contatto devono essere sempre ben accessibili e devono essere devo ispirare sicurezza devo essere sempre disponibile verso il cliente un'altra importante informazione che addirittura il 66% dei clienti ricerca all'interno di un sito sono le informazioni di reso noi suggeriamo sempre di tenerle sempre visibili perché il reso ormai è diventato non dobbiamo cercare di evitarlo è diventato una parte fondante del processo di acquisto e commerce quindi dobbiamo rendere le informazioni accessibili e non nasconderle rendere accessibili sia durante l'aggiunta del prodotto al carrello sia durante le mail che mandiamo al cliente sia durante diciamo il check out in ogni occasione in modo da rendere sempre visibile per il cliente ultimo blocco è quello della customer experience quindi quello che è ancora più importante è rendere l'esperienza del cliente qualcosa che si ricordi un esempio è Dollar Shave Club quello che fa è cercare di creare un senso di appartenenza verso il cliente quindi cerca di forzare nel cliente la validazione sociale lui ti invia un pacco in cui ti dice che fai parte sei un membro ufficiale di questa community una community premium e quindi ti senti parte di un qualcosa di più grande e ti crea un engagement verso il brand un altro esempio di senso di appartenenza quindi validazione è quello dei video di unboxing non so se le avete mai visti in giro ma dal 2010 sono cresciuti dell'871% quindi immaginate e ovviamente questo qui oltre a generare diciamo engagement nella persona che lo riceve che quindi è talmente contento che crea un video per raccontarlo agli altri crea quel meccanismo di referral quindi io pubblico un qualcosa per farlo conoscere agli altri questi altri vedono l'esperienza positiva che si è creata in quell'utente e molto probabilmente la riacquistano pensate che solo nel 2013 sono stati caricati 6,5 anni di video su youtube con la categoria unboxing quindi immaginate tantissimo altri esempi senso di indebitamento non so se avete mai letto il libro di Cialdini le armi della persuasione lui parla di di senso di indebitamento parlando addirittura degli Hare Krishna che andavano in giro per la città cercando di prendere soldi e avevano studiato questo metodo che regalando una margherita ricevevano molti più soldi rispetto a chiedergli soltanto questo metodo qui applicato al web al marketing in generale ovviamente dà i stessi benefici questi qui di true non mi ricordo in pratica quello che fanno è creano dei pacchetti di tribe4buy che ti mandano a domicilio tu provi quello che vuoi quello che ti piace lo tieni il resto lo mandi indietro quindi ti dà un servizio prima di acquistare addirittura tu non paghi niente ti arriva a casa lo provi e dopo paghi quindi questo meccanismo ti crea un senso di indebitamento che poi ti induce ad acquistare di più un altro esempio è quello della riprova sociale quindi quando qualcosa viene fatto da altre persone io credo che è una cosa giusta e quindi probabilmente la faccio per esempio se vedete in questi due in questo A-B testing l'utilizzo di contenuti generali dagli utenti nella parte bassa di destra del esempio B ha un incremento del 23% delle conversioni perché c'è una riprova sociale quindi attraverso questi contenuti generati lo stesso Cialdini in un'occasione un po' più particolare lui fa un esempio quindi questo qua immaginatevolo in un contesto completamente scollegato dal marketing mette delle persone all'interno di una stanza fa entrare del fumo una persona è un diciamo un quello che viene come si dice quello che è preso in esame diciamo non sa niente di quello che sta succedendo un altro è un complice entra del fumo nella stanza se il complice non si muove anche diciamo quello che sta che sta venendo diciamo preso in considerazione non si muove se invece anche quello che il complice si muove quindi inizia a cercare delle soluzioni a questo fumo allora si muove anche l'altro nella maggior parte dei casi testati la riprova sociale è visibile anche nella parte delle customer review infatti vedrete in tutti quanti siti ormai vedete una proliferazione enorme di questi di queste review è dovuto proprio a questo motivo in questo esempio le vedete due di esempi di esaltazione del trust uno è la customer review quindi con le stelline che ti dice quanto sono stato bravo rispetto ai miei clienti e la seconda parte è quella del raccomandato da quindi il secondo elemento è io sono stato raccomandato da questi brand molto importanti quindi vuol dire che valgo qualcosa il cliente ovviamente si sente più considerato in questo esempio un altro esempio è questo qui loro mettono in mostra questi qui fanno una specie di pongo che ti aiuta ad aggiustare qualsiasi cosa in pratica lo mettono in mostra attraverso questi elementi sulla mappa esempi di utilizzo dai diversi tipi di utenti in tutto quanto il mondo e lo abbinano alla parte di recensioni quindi un altro esempio di riprova sociale utilizzata per aumentare la conversione all'interno del sito senso di urgenza questo è un altro elemento che serve a cercare di spingere l'utente all'acquisto e a concluderlo in più breve tempo possibile come vediamo tra l'esempio A e il B c'è stato un aumento del 6,5% delle conversioni soltanto aggiungendo il tempo rimanente alla chiusura di quel deal di quell'offerta e mettendo anche la parte di quanti ne sono stati acquistati e che sta per finire un altro esempio ASOS quando fa delle offerte Moesco lo vedete un po' dappertutto anche UX lo utilizza spesso crea delle offerte con un countdown quindi con un conto alla rovescia che si chiudono in fretta questo qua per aumentare il senso di urgenza nel cliente e quindi spingerlo a chiudere l'acquisto in modo più rapido altri esempi questo qui per esempio se vedete utilizza un senso di scarsità però applicato all'inventario quindi scorte che stanno per finire quindi sbrigati ad acquistare ovviamente questi esempi qua li vedete un po' dappertutto uno che li utilizza a rotta di collo diciamo è booking se quando andate a comprare una camera d'albergo vedete pop-up che appaiono dappertutto e ti spingono ad acquistare altro esempio ovviamente riesco qua per farvi vedere un po' come possono essere applicati gli esempi sono tantissimi però voi in base al vostro tipo di prodotto potete applicarli in modo differente questo è Zappos che proprio sopra il bottone del carrello ti fa apparire un piccolo pop-appino e ti dice soltanto uno disponibile per sbrigare di acquistare altri esempi su come migliorare il proprio la conversione del proprio store quando lavoriamo sulla call to action oltre a lavorare su quello che riguarda il colore la forma noi abbiamo avuto dei risultati enormi andando a a spostare soltanto il bottone o a ingrandirlo leggermente questo qua andando invece anche a lavorare sul testo quando dobbiamo far scaricare qualcosa magari non mettiamo soltanto download mettiamo qualcosa di più ingaggiante tipo prendi il tuo libro gratis adesso oppure quando devo inviare un form per richiedere un preventivo invece di fare soltanto il submit get your free quote e via dicendo aggiungi il carrello magari offriamo io un qualcosa uno sconto aggiungi il carrello risparmia il 25% un altro esempio su come posizionare la call to action questo qua è molto importante perché in alcuni e-commerce magari questa cosa viene un po' persa di vista per dare importanza allo stile al design spesso viene messa sotto la riga di scroll questo qui è molto importante perché se vedete le statistiche magari con dei sistemi non so se qualcuno utilizza hot jar o sistemi analoghi probabilmente il 70-80% delle persone non scrolla la pagina in alcuni siti e quindi è importante fargliela vedere subito la call to action di acquisto stessa cosa North Face oltre che mette la call to action above the fold mette anche dei temi importanti e caldi tipo la spedizione gratuita e in tre giorni lavorativi sopra la call to action in modo da ingaggiare ancora di più clienti ora parliamo di mobile velocemente il mobile anche se ha molta più visibilità rispetto al desktop ormai ha una conversione che è molto più bassa tre volte più bassa rispetto alla conversione da desktop questo grafico è abbastanza esplicativo il 70% delle visualizzazioni dei nostri siti spesso sono da mobile mentre le conversioni il 70% e l'80% sono da desktop come mai c'è questo divario così grande questo qua perché alcuni sono dei motivi ambientali quindi strutturali cioè spesso l'utente lo guarda in giro magari sta facendo qualcos'altro guardo il sito ma non sono pronto a concludere l'acquisto e magari sono in un ambiente in cui ecco sto seguendo la conferenza mi annoio guardo qualche scarpa da comprare però magari non acquisto oppure sono distratto comunque ho dei contest switch frequenti e questo è uno degli esempi altri sono proprio a livello di user experience questo qua è il sito di staples voi dove clicchereste per vedere il menu non si sa perché l'hanno nascosto a quanto pare quindi per andare nella navigazione anche per categorie bisogna cliccare sulla ricerca e ovviamente questa cosa qui è una cosa un po' strana non è molto intuitiva per l'utente in questo modo vi chiudete rispetto a una bella fetta di clienti che non riescono a navigare il sito e rimangono un po' spaisati quindi cosa bisogna fare bisogna cercare di soprattutto su mobile di rendere l'esperienza il più full screen possibile ad esempio questo qua è un esempio di Zalando cosa fa Zalando loro mettono il menu completamente full screen e soprattutto anche il tasto di uscita dal menu è sempre evidente questo qua è molto importante perché l'utente deve sempre trovare un appiglio grafico per navigare e per soprattutto chiudere la navigazione la navigazione è importante che sia full screen perché ovviamente su uno schermo piccolo diventa complicato avere più strutture nella stessa pagina ovviamente anche per quanto riguarda la parte di navigazione è importante utilizzare una navigazione che sia si adatta quindi a mobile responsive ma che possa anche mostrare il più possibile i nostri prodotti quindi evitare l'unico prodotto evitare i quattro prodotti in fila il due ormai è lo standard che si sta diffondendo un po' dappertutto quindi due prodotti per ogni riga che aiutano la facile ricercabilità il facile scroll del prodotto del sito stop ho finito anche leggermente in altissimo perché sono un po' veloci grazie Guido ci sono delle domande arrivo devo prendere il gelato ecco le domande qua prima giusto complimenti innanzitutto perché è veramente top grazie ci ho detto per quanto riguarda i sistemi di pagamento nella tua esperienza perché hai parlato del sistema di pagamento però mi sembra che stiamo parlando di mondo cioè più ecco in Italia quali sono secondo te quelli che vanno per la maggiore e qual è la tua opinione su Paypal visto che non lo hai nominato per niente ah sì non l'ho nominato ma solo per tempo di esempio insomma ovviamente in Italia abbiamo le carte di credito che sono quelle accettate per la maggiore e Paypal che è uno dei maggiori aggregatori che quindi è indispensabile avere sul proprio sito ovviamente dipende che cosa si vende perché se si vende un mercato a un tipologia di cliente che magari è cinese vale la pena inizialmente integrare dei modelli di pagamento tipo Alipay o WeChat o UnionPay ovviamente adesso iniziamo a vedere anche nei store fisici dipende tutto quanto dal tipo di cliente però se vendiamo in Italia per italiani probabilmente carte di credito e Paypal sono abbastanza e una seconda domanda nella tua esperienza c'è qualcosa per migliorare quel drammatico gap che esiste sulla conversione di vendita sul mobile c'è tante visualizzazioni ma tre volte meno le conversioni c'è qualche diciamo trick per comunque migliorare un pochino la situazione ovviamente non ci sono dei veri e propri trick è un lavoro di progettazione molto spesso quindi si sente nominare molto la parola mobile first ultimamente effettivamente è quello il concetto nel senso partire dall'esperienza mobile per poi declinare quella desktop perché l'esperienza mobile è quella su cui abbiamo una maggiore affluenza quindi dovremmo sfruttare per convertire al massimo dopodiché rendere quasi secondaria l'esperienza desktop però tutta una questione proprio di architettura ecco questi qua erano alcuni degli esempi delle cose da sfruttare per migliorare la conversione ma parliamo di magari di piccole percentuali 5-10% 5-10% già sono tante però magari ecco noi per dire rifacendo una landing page addirittura rendendola più adatta al mobile abbiamo raddoppiato le conversioni quindi è una questione proprio di architettura delle informazioni cercare di rendere più accessibili le informazioni importanti e le call to action soprattutto altre domande rialzate la mano qua una domanda hai parlato di posizionare il bottone acquista diciamo above the fold ovviamente sia su desktop che su mobile mi chiedevo alcune volte su mobile può essere più complicato perché c'è magari il testo del prodotto la foto eccetera una soluzione potrebbe essere usare lo sticky cioè posizionare il bottone in basso ancorato esatto che infatti è quello che se vedete è la best practice più utilizzata Zalando che diciamo che è uno un po' dei leader poi sulla parte di user experience sul mercato mobile posiziona così nel senso c'è l'immagine full screen c'è diciamo il carrello cioè l'aggiunta al carrello è sticcata sulla parte bassa dove c'è la scelta della quantità e l'aggiunta al carrello quindi è la soluzione migliore ovviamente poi in base al tipo di prodotto se dobbiamo far vedere qualcosa in più probabilmente ci sono altre dinamiche prego ciao e complimenti grazie la domanda era simile a quella di prima però del mobile first però mi chiedevo a questo punto visto che c'è questo gap di conversioni conviene progettare diciamo la user experience e le UI con un design mobile first o conviene progettare come se fossero due design nel senso che tutte quelle belle cose che magari ci sono sul pulsante gli annunci e tutto sul mobile non li puoi mettere quindi sono quasi due progettazioni diverse quella mobile e quella desktop sì ma infatti allora ormai sì è un po' così nel senso le progettazioni sono differenti ma l'importante è cercare allora dipende poi da uno le possibilità che ha nel senso se c'è la possibilità di fare l'app nativa il sito web ovviamente sono due cose che possono essere studiate in modo differenti però tendenzialmente sì le esperienze sono diverse l'unica cosa bisogna cercare di mantenere diciamo il feeling verso il cliente omogeneo nel senso noi lo chiamiamo design language cercare di utilizzare gli stessi componenti che vengono utilizzati su mobile utilizzarli su desktop e allo stesso modo poi se la disposizione è diversa questo qua non è un problema l'importante è che l'utente non si trovi spaisato quindi deve mantenere quello stesso feeling su tutte quante le piattaforme però sfruttando le potenzialità delle diverse piattaforme grazie mille niente abbiamo un'altra domanda quanto tempo abbiamo Marco? va andiamo buonasera innanzitutto grazie per l'intervento la mia domanda è quando conviene a un e-commerce avere il sito sviluppato mobile first e quando l'app se esiste una preferenza e se sì quando in che senso quando conviene? nel senso a volte ha più senso costruire la experience e l'interfaccia di un sito e-commerce pensando alla navigazione su browser oppure se a volte conviene proprio progettare un'app stand alone come fanno ASOS Zalando ma anche a volte in realtà più piccole ma questo qua dipende tutto quanto un po' dal tipo di cliente che uno ha nel senso andando a vedere un po' gli analytics quindi quanti clienti arrivano sul mio e-commerce da quali sorgenti da quali tipologia di device ovviamente da lì già abbiamo tante informazioni andando a a capire quindi dove qual è la mia direzione in cui devo andare da lì posso andare a fare dei ragionamenti perché ovviamente partire da zero sviluppando l'applicazione mobile il sito ha un effort molto importante partendo invece da un sito responsivo ovviamente l'efforto è ridotto secondo me conviene partire da un sito e-commerce normale cercare di ottimizzare al massimo poi al punto in cui non si riesce più a ottimizzare quindi a migliorare la conversione a quel punto si può ragionare sullo sviluppare un'app mobile quindi in ogni caso secondo me la metodologia lean è sempre quella che vince nel senso partire in modo agile iterare finché non non miglioro finché non riesco più quando non riesco più a migliorare faccio qualche qualche passo in più magari più importante per andare a ottimizzare il processo niente altre domande domande beh sicuramente secondo me vale anche il potere di spesa del cliente no? cioè il step volevo rispondere anche a lei tipo lo step by step sicuro bisogna passare però anche le realtà piccole a volte non hanno un potere di spesa molto alto per poter affrontare uno sviluppo per l'app scusa se mi introvetto nel senso che basta anche sempre questo è proprio quello su cui stiamo lavorando noi nel senso noi stiamo cercando di creare stiamo creando una piattaforma che è Vidra che permetterà diciamo di rendere accessibile anche ai piccoli commercianti di tutto quanto quello che adesso è l'appannaggio soltanto delle grandi aziende perché molte noi ci confrontiamo sempre su Zalando anche tu hai fatto degli esempi giustamente perché comunque è il top però loro hanno un potere di spesa molto alto che la piccola media impresa nonostante possa avere un e-commerce non può permettersi un certo costo soprattutto hanno il potere di andare a fare ricerca e analisi quando spesso invece nelle piccole aziende questo qua non è possibile ovviamente perché togliere tempo alla gestione del processo di vendita per andare ad analizzare le heatmap sul sito magari non è non è Marco mi sta sgridando perché io sto cercando perfetto